Musica 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 5-0 Si sono troppo forti, si mettono un po' di piccolini ma va bene non possiamo giocare su quelli grandi Numero 10 5-4 Musica La partita di dopo abitata da Cosimo e Dino dopo 5 minuti del secondo tempo deve essere sospesa perché non si mangiano secondo me, questa è la mia premonizione Musica 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 Grazie a tutti. 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 Lo so per certo amico, mi son voltato anch'io, per raggiungerti ho dovuto correre. Ma più mi guardo in giro e vedo che c'è un mondo che va avanti anche se... Se tu non ci sei più... Se tu non ci sei più...